La Cervello al Cuore è un evento scientifico che già nel suo titolo ha la sua essenza, nel senso che la cardiologia dell'ospedale Cervello ha sempre rappresentato un punto fermo per la collettività padermitana, regionale ma anche nazionale. Ha ripreso la sua rotta, si pone nuovamente come un punto di riferimento cittadino per la gestione del paziente cardiologico complesso. L'emergenza Covid ha fatto sì che si creasse un polo dove far convergere tutta la popolazione Covid positiva. Era un ascetto ovviamente giusto e commisurato al tempo, però tutto questo a cosa ha costato? Ha costato in qualche modo una riduzione delle prestazioni ospedaliere e della cardiologia in particolare in tutte quelle che sono le attività pre-cip, attività chirurgiche, attività cardiologiche. Era giustificato assolutamente in quel momento storico, ma chiusa l'emergenza nazionale l'ospedale ha appena appena ripreso le sue attività riportando in alto quella che è la prestazione di qualità e di eccellenza che ha sempre caratterizzato questo nosocomio. Stanno avvicinando più donne alla cardiologia, alla cardiologia interventistica, alla cardiologia della terapia intensiva. C'è una cardiologia di genere cosiddetta, in cui la donna ha delle caratteristiche differenti rispetto all'uomo, rispetto alla cardiopatia ischemica, ha un esordio diverso, ha caratteristiche diverse, è più difficile da essere evidenziata e cure anche particolari, perché evidentemente nel momento in cui una donna, o perché una donna ancora in una fase di procreazione possibile, quindi una donna ancora fertile, che può avere bambini, che si può trovare, quindi è più esposta e deve avere delle cure particolari che non creino problemi. O le donne in gravidanza, che possono avere problemi cardiologici, in questi l'attenzione è massima, noi abbiamo veramente anche una grande competenza ormai su questi pazienti, ma anche le donne per esempio affette da neoplasie mammarie, che possono avere problemi cardiologici. Queste ovviamente entrano in un programma di protezione, il nostro reparto ha una grande competenza nella cardio-oncologia e che si esprime moltissimo anche nelle donne che hanno il tumore della mammella, o possono avere anche altri tumori, sia in una fase ancora di fertilità, della loro vita fertile, ovviamente anche nei pazienti più anziani.